SQUADRA ALFA QG Merda! Non si può morire così! Non mi ha liberato! Il bersaglio! Perchè quell'affare non si va a vedere? Rogers, ci sono! No! No! Capitano! Aspetta! No! Che diavolo pensavi di fare con quella bravata da kamikaze? Questi sono i miei uomini! O segui gli ordini o troverò qualcuno che lo faccia! Ti rendi conto di quello che dici? Mettiti in riga, soldato! L'avete sentito? Andiamo! E come uccideremo quella cosa se non la vediamo? Sta zitto e muoviti! No! 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 Non! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. È questa roba. Aiutami. Roger. Roger. Tutti a rapporto. Qui, Pierce. Sono al secondo piano. Capitano! Non trovo più Jeff! È scomparso! Calmati, Marco! Dove ti trovi? Primo piano! Oh, merda! Credo che quella cosa sia qui! Il bersaglio è al primo piano! Venite tutti qui! Reed! Santo cielo! Capitano! Ho sentito Jeff! Sta urlando! Arrivo, amico! Cerca di resistere! Non ti muovere, Marco! Resta in posizione! Mi senti? È un ordine! Roger! Ok, troviamo quel pezzo di merda e facciamolo fuori! Jeff! Poveraccio. Roger! Ehi! Ci sono! Dove sei, figlio di puttana? Il soffitto! Finalmente mostro il tuo brutto muso. No! 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 No Hai ucciso i miei uomini! A Lo faccio a pezzi! Quella cosa è qui. Chiudiamo questa storia. Sì. Ehi, lordo bastardo! Aiuto! Addosso! Pierce! Ah... È come se le nostre armi fissero la sua pelle! Troviamo qualcosa che lo faccia! Marco! Alimenta questo affare! Ci penso io! Capitano! Buongiorno! Capitano! Buongiorno! Perfetto! Fatto! Abbiamo fritto quel figlio di puttana! Marco! Marco, ti sai! Sì! 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 Ma niente Ada. Non mi darò pace finché non approva la sua testa. Roger! Sì! È una follia! Non siamo al sicuro qui, dobbiamo andarcene! Capitano! Cercatemi ragazzi. Benvenuti in cena. Ah! 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 Aspetta! Non abbiamo scelta, dobbiamo ucciderlo! Farebbe lo stesso per noi! Marco! Gaspettino! Sì! Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, mi dispiace per tutti gli uomini che sono morti credendo in te. Sì, mi dispiace per tutti gli uomini che sono morti. Sì, mi dispiace per tenerti d'occhio. Tu lo voglia o no? Qui QG, posizione in arrivo. Adawong è fuori città e va a sud verso il porto. QG a tutte le squadre. L'obiettivo Adawong è stato individuato. Va a sud verso il porto. La vogliamo viva. Se vuoi seguirmi, fa pure. Ma ti consiglio di non starmi qui. Se non passi i limiti ancora, non ci saranno problemi. Ada sta solo giocando con te. Quando ti decidi a capirlo. Non sono così stupido da cadere nei suoi tranelli. Abbi fiducia nel tuo capitano. Abbi fiducia nel tuo capitano. Abbi fiducia nel tuo capitano. Abbi fai aver acquistato nel tuo capitano. Abbi fiducia nel tuo capitano. Abbi fiducia nei primi ripii. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Andiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Spero che... Grazie a tutti. che... e... abbiamo... abbiamo... e... 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 serrature... e... ... 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